Il trasporto pubblico in Emilia-Romagna è sempre più attento all'ambiente e alla salute dei cittadini. La Regione investirà 3,6 miliardi per la mobilità sostenibile nel triennio. All'interno di questo pacchetto ci sono risorse per l'elettrificazione del trasporto ferroviario e a supporto del piano pluriannale d'acquisto di 1.600 bus ecologici. Una trasformazione che investe anche il car sharing grazie a Tiper. La Regione è il principale azionista dell'azienda del trasporto pubblico, diventata leader in Italia con Corrente, servizio di condivisione di auto elettriche. La nostra iniziativa Tiper Corrente, che è il car sharing full elettrico, che opera già da alcuni anni nei nostri territori, è un progetto che però nasce da lontano perché è un car sharing elettrico che già funziona e che ha ad oggi già 35 mila iscritti, quindi utenti per il nostro servizio e che si muove già a Bologna, a Ferrara e oggi anche in quest'anno anche a Rimini e che ha altre attività di espansione. È un'occasione per ricordare l'importanza del car sharing elettrico nella mobilità condivisa in questi anni in cui si parla moltissimo di sostenibilità e di mobilità sostenibile ma poi bisogna portare a terra e fare delle iniziative concrete. La nostra è un'iniziativa concreta, nata in partnership anche con soggetti privati, c'è anche un grande lavoro di squadra per questo perché noi siamo un'azienda che nasce dall'idea del trasporto di servizio del trasporto pubblico, svolgiamo prevalentemente il trasporto pubblico ma nell'ottica dell'intermodalità e della complementarietà nei vari ambiti della mobilità sostenibile abbiamo dato vita anche a questa iniziativa. Noi siamo una realtà che nasce, lavora, opera in regione e che ha sviluppato il car sharing nel nostro territorio tra l'altro come esperienza unica in Italia. Questo è importante grazie alla conoscenza, alle competenze e all'esperienza degli anni nel nostro mondo. Grazie.